ariete non esitate a fare qualcosa di insolito e piuttosto impegnativo per una persona a voi vicina alla fine riceverete in cambio più di quanto avete dato toro è importante che siate sicuri di quello che state facendo e che le motivazioni che vi spingono ad agire siano giuste gemelli lavorando in un'atmosfera rilassata riuscirete a rendere molto di più oggi non commettete l'errore di forzare i ritmi o imporvi degli obiettivi troppo ambiziosi cancro la ragione il sentimento possono convivere perfettamente oggi dovrete solo fare in modo di tenere a bada la vostra emotività leone ciò che avverrà oggi avrà un forte impatto sull'andamento dei prossimi giorni anche se a tutta prima sembrerà un fatto di ordinaria amministrazione vergine non c'è bisogno di imporsi cambiamenti radicali oggi un piccolo sforzo di adattamento da parte vostra produrrà risultati eccellenti bilancia desiderate ricevere rispetto e ammirazione oggi ed è probabile che compirete un'azione che vi procurerà l'uno e l'altra scorpione non state troppo ad analizzare i complimenti che ricevete accettateli e basta e siatene orgogliosi sagittario le cose vi stanno andando molto meglio di quanto crediate state andando nella direzione giusta i risultati non tarderanno ad arrivare capricorno ciò che sembra essere a portata di mano potrebbe trovarsi molto più lontano di quanto crediate non fatevi troppe illusioni perciò e continuate a impegnarvi acquario date modo alla vostra inventiva di esprimersi dedicatevi ad un nuovo progetto e lanciatevi in qualche attività creativa pesci vi accorgerete di essere molto più forti e sicuri di voi di quanto non lo siete stati in passato siete pronti ad affrontare una sfida impegnativa